L'altro giorno mi passa Maicon da fuori dalla porta dello spogliatoio e faccio, oh, mi torna indietro, dice a me dico, vieni un po' qua, ma c'è qualcosa che non va, t'ho visto questi due allenamenti eeeh, eeeh, cosa? eeeh, perché lui fa così, ce l'ho con te, come ce l'ho a me, perché? eh, perché non mi fai più giocare, ho capito, però va bene, ti faccio giocare, ha giocato l'altro, sta facendo bene, per cui si parla di quello che è il momento sì, sì, ce l'ho con te, però è vero, io devo dare il massimo e mi devo impegnare per cui ora, no, no, io come sempre do il massimo, è ritornato dentro a 2000 orari, si fa così, poi ci sono dei confronti che succedono però, è bellino anche quando uno ti dice con tranquillità e con sincerità quello che è il suo stato d'animo e però poi si rimette a disposizione è contento di quello che fa il ragazzo e quando vede un compagno di squadra che fa una bella cosa, gli salta addosso trasferendogli il suo entusiasmo la sua amicizia e la sua disponibilità molto carini